Fuse è un progetto che permette di creare file system in user space. Alcuni file system creati con Fuse sono SSHFS che permette di montare una directory di un server remoto via SSH come se fosse una normale directory locale oppure NKFS che permette di montare una directory criptata e vederne il contenuto decriptato in maniera trasparente. Un altro file system molto famoso basato su Fuse è ArchiveMount che permette di montare archivi compressi come se fossero normali directory ed esplorarne il contenuto senza bisogno di decomprimerli. ArchiveMount ha però un grosso problema. È tremendamente lento. Per avviare questa lentezza mi sono messo a realizzare un file system Fuse ispirato ad ArchiveMount che ho chiamato ArchiveFS. Sarò riuscito a renderlo più veloce di ArchiveMount? Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Vediamo di installare ArchiveFS e provare. Se usi Arch Linux trovi ArchiveFS nell'AUR, quindi un UI-S ArchiveFS o equivalente fa già tutto. Vediamo invece nella nostra bella Ubuntu MATE come si fa. Prima di tutto occorrono i file di sviluppo di LibArchive che su Ubuntu si trovano nel pacchetto LibArchive.dev. Dopodiché, visto che ArchiveFS è scritto in Rust, bellissimo linguaggio tra l'altro, andiamo a installare il pacchetto Cargo, che sarebbe il package manager di Rust. A questo punto, il comando Cargo install ArchiveFS si preoccupa di scaricare, compilare ed installare ArchiveFS e tutte le sue dipendenze. Finita l'installazione, vedi che ci dice di mettere nel path la directory home.cargo bin, dove è stato installato ArchiveFS. Bene, andiamo a farlo. Editiamo il nostro bel file .bash.rc Visto che abbiamo cambiato un file di avvio, occorre chiudere e riaprire il terminale. Ed ecco che ora basta fare un ArchiveFS-help per verificare che ArchiveFS sia stato correttamente installato nel path. Bene, come vedi ho due file compressi. Video.7z, che contiene il file dello scorso video, che occupa circa una trentina di mega. E' grepe.3.xz, che contiene i sorgenti della utility grepe di GNU, che occupa circa un mega e mezzo, ma contiene tantissimi file di piccole dimensioni. Vado quindi a creare una directory temporanea, dove andrò poi a montare gli archivi. Iniziamo a montare il file video.7z con ArchiveMount. Ora che l'archivio è montato, mi sposto nella directory temporanea e vedi che c'è un solo file chiamato output.mp4. Per estrarre quel file basta semplicemente copiarlo nella directory in cui vuoi estrarlo. In questo caso lo copio nella directory precedente, cioè nella mia home. Prependo al comando di copia il comando time per misurare quanto tempo ci mette e mostrarlo a fine operazione. In questo modo posso tagliare e velocizzare il video senza farti perdere tempo e mostrarti subito l'esito dell'operazione. E vedi che ci ha messo quasi 3 minuti. Inaccettabile per un unico file da circa 30 mega. Bene, torniamo nella directory precedente, smontiamo l'archivio ed eliminiamo il file appena copiato. Ora è il turno del mio ArchiveFS. Lo monto sempre in TMP con questo comando. Copio il file come prima e vedi che ci ha messo poco meno di 2 secondi. Direi che strabiliante! Ma vediamo ora come si comporta nel caso di tanti file di piccole dimensioni. Montiamo prima di tutto grep con ArchiveMount. Vedo che tutti i file sono contenuti nella directory grep 3.6 e per copiare tutti i file uso l'opzione cp-a. Ci ha messo poco meno di 55 secondi. Inaccettabile per un archivio da 1,5. Smonto la directory TMP e cancello la directory appena copiata. Uso slash bin slash rm per essere sicuro che non ci sia un alias che mi rende la rimazione interattiva. E uso rm-r con la f perché non mi faccio domande riguardo ai file in sola lettura. Ok, è nuovamente il turno del mio ArchiveFS. Copio tutti i file come prima. E ci ha messo poco più di 57 secondi. Peggio ancora che con ArchiveMount. Anche se a un ordo al vero la differenza qui è minima. Inaccettabile anche qui. E questo ci mostra che se vogliamo estrarre tutti i file di un archivio, conviene sempre usare i tool di decompressione dedicati. Ti faccio vedere. Dopo aver smontato l'archivio ed eliminato la directory copiata in precedenza, provo a estrarre il file usando tar. ci ha messo poco più di un decimo di secondo. Non c'è paragone. Ma allora a questo punto tu ti starei domandando a che serve fare un file system fuse per gli archivi compressi quando i tool nativi di decompressione sono nettamente più veloci? La risposta, almeno nel mio caso, sta nel modo in cui il file manager rnr gestisce i file compressi. Se non sai cosa rnr, ti consiglio di guardare il video tutorial che avevo fatto qualche mese fa. Trovi il link in descrizione. Infatti, fino alla versione 1.0.4, rnr utilizzava archive mount per aprire i file compressi, mentre dalla versione 1.0.5 utilizza il mio archivefs e se non è installato usa archive mount come richiego. Andiamo quindi ad aggiornare il nostro file manager rnr con pip3. Anche qui, se usi Arch Linux, rnr è pacchettizzato nell'aura col nome rnr-fm. Diamo ora il comando rnr-version per assicurarci che sia almeno alla versione 1.0.5. Bene, ora possiamo entrare nel file video.7z e copiare il contenuto nella nostra home direttamente dal file manager, cosa piuttosto comoda. Oppure, se vogliamo, possiamo entrare nell'archivio grep e visualizzare velocemente uno o due file senza bisogno di estrarre nulla. Concludendo, ho scritto Archivefs principalmente per poter estrarre velocemente file di grosse dimensioni utilizzando il file manager rnr e da questo punto di vista direi che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Purtroppo però estrarre tanti file di piccole dimensioni rimane problematico. Ma come abbiamo visto poc'anzi, se ho questa necessità basta semplicemente dare il comando di estrazione del file ed il gioco è fatto. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!